avevo proprio voglia di preparare un dolce con le ciliegie ma non riuscivo proprio a decidere tra una torta e una crostata e alla fine ho optato per un compromesso devo dire ben riuscito una torta crostata allo yogurt con ciliegie sarebbe una crostata con dentro una soffice torta allo yogurt farcita di ciliegie ma adesso allacciate i grembiuli che iniziamo subito a prepararla come prima cosa andiamo a preparare la pasta frolla che ci servirà come base della nostra torta in una ciotola inseriamo la farina il burro e lo zucchero iniziamo a lavorare il tutto con le mani fino ad ottenere un composto dalla consistenza sabbiosa a questo punto possiamo aggiungere anche un uovo e terminiamo di impastare dobbiamo ottenere un panetto liscio e compatto a questo punto l'avvolgiamo nella pellicola trasparente e la riponiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo nel frattempo portiamo avanti la preparazione allo yogurt in una ciotola inseriamo i tuorli e lo zucchero e li montiamo fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro aggiungiamo ora lo yogurt greco continuando a lavorare il composto con le fruste elettriche setacciamo ora l'amido di mais e il lievito per dolci all'interno della ciotola e continuiamo a mescolare il tutto fino ad ottenere un composto liscio ad esso in un'altra ciotola montiamo gli albumi a neve incorporiamo ora gli albumi appena montati all'interno del composto avendo cura di mescolare con una spatola dal basso verso l'alto incorporiamo l'albume poco alla volta ora che il composto ha incorporato tutto l'albume possiamo metterlo da parte e riprendiamo di nuovo la pasta frolla stendiamo la frolla sopra un foglio di carta forno così ci verrà più facile poi trasferirla all'interno della teglia cerchiamo di dare una forma circolare ora dobbiamo ricavare un disco di pasta dello stesso diametro della teglia togliamo l'impasto in eccesso ed inseriamo il disco di pasta sulla base della teglia con la frolla che ci è rimasta andiamo a ricavarci un bordino per la nostra torta con una forchetta facciamo dei buchetti sul fondo infine versiamo il composto allo yogurt all'interno della tortiera e per dare un tocco di freschezza alla nostra torta aggiungiamo delle ciliegie fresche denocciolate e adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 45-50 minuti una volta sfornata la lasciamo raffreddare la tiriamo fuori dalla teglia e diamo una spolverata di zucchero a velo e adesso la nostra torta allo yogurt greco e ciliegia è pronta per essere gustata pronto e servito una ricetta facile e veloce un canale di cibo che ci fa sognare pianto dopo a pianto sorrisi nel cuore pronto e servito ciao 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 ciao